In questo podcast voglio rispondere alle domande, ai commenti che mi avete lasciato sotto al video sui pericoli del femminismo che ho fatto qualche giorno fa. Siccome non voglio creare un monologo, mi piace anche dare la possibilità a voi di esprimervi, ma siccome non riesco a rispondervi nei commenti uno per uno, lo farò con alcuni video dove andrò a prendere i commenti che possono aggiungere o togliere qualcosa a quanto io ho detto. E in particolare voglio concentrarmi sui commenti negativi, cioè quelli di critiche, perché comunque in generale ho visto che chi mi segue bene o male è d'accordo con me. Quindi, a parte alcune sfumature, però vedo una sostanziale allineamento. In particolare ho visto un commento molto lungo di Margherita Scaffidi, che voglio leggere insieme a voi perché mi sembra che voglia provare a rispondere a quanto io ho detto punto per punto. Lei dice Allora, il neoferminismo per me è questo rigurgito popolare, lo definirei non un movimento, nel senso con degli ideali, con delle rappresentanze chiare, lo definirei piuttosto una sensazione, un modo di parlare di questo problema, una percezione che c'è a livello sociale, che io percepisco soprattutto sui social, che tratta questi temi in un determinato modo. Quindi temi che possono riguardare il ruolo di genere femminile, hanno appunto trovato in questo movimento che in gran parte si riconduce, si identifica nel movimento femminista, ma poi so che non bisogna parlare di tutto un erbo e un fascio, quindi non so poi se il movimento femminista moderno ha delle precise ideologie che lo distinguono da chiunque voglia. Io parlo di un movimento popolare, di chiamiamola indignazione popolare rispetto a quello che subiscono le donne in questa società, ma è un movimento molto eterogeneo, non c'è una precisa ideologia. Diciamo che è appunto un qualcosa che riguarda soprattutto il dibattito pubblico, che riguarda lo scambio anche di informazioni. Parte secondo me da una base che appunto il sessismo a favore delle donne, nel senso la discriminazione sessuale che pompa il ruolo di genere femminile, non è più in qualche modo ostacolata nella sua divulgazione, ma anzi è entrata e sta facendo sempre più il suo ingresso nel senso comune. Il fatto che entri nel senso comune, anche quindi dire che una donna è più preparata dell'uomo, dire che una donna è meglio dell'uomo, dire che una donna è più brava a fare x cose dell'uomo, non è più qualcosa che è oggetto di atteggiamento critico, ma nel senso comune appunto in questo movimento che io definisco neofemminismo è qualcosa di assodato, qualcosa che viene dato come un assunto. La donna è migliore dell'uomo in alcuni punti di vista che vorrebbero far sì che appunto questa sua migliore posizione dell'uomo avvenga, non solo a livello fattuale, ma anche a livello sociale. Quindi tu dici, io mi riferisco nel femminismo, si batte per miglioramenti della società e della vita delle donne, in vista dell'uoglianza e quindi del benessere generalizzato. Non sarà il diritto al voto, non sarà la legge sul divorzio, ma le femministe, e i femministi ovviamente, dei giorni nostri si occupano di questioni fondamentali per la materia. Problemi di validità, problematiche linguistiche, su tematiche sociologiche, queer e intersezionalità, parallelamente puntano a sviluppare narrative e gusti alternativi ai quali le persone possono aderire con più trasporto. In ogni caso siamo ben lontani da quella supremazia femminile che tutti sembrano temere. Onestamente non ho capito bene le tue argomentazioni, quindi non le commenterò perché non ho capito che cosa farebbe questo movimento femminista, addirittura, tu dici, puntano a sviluppare narrative e gusti alternativi. La parola femminismo non è trasfigurata, questo è uno dei pochi punti su cui non ho dubbi. Piuttosto è stata mutilata e deformata da delatori e abusatori. Ebbè, quindi cosa vuol dire? È stata trasfigurata? Non sto dicendo che l'han trasfigurata in modo, come dire, volontario, che è stata trasfigurata da alcuni o da altri. Io sto dicendo che oggi chi si definisce femminista, pensando appunto di utilizzare questa parola riferendosi a una chiave più storica del movimento, lo fa perché ha invece una mentalità non di eguaglianza, ma una mentalità di difesa dei propri diritti di donna. Anche perché quasi tutte le femministe sono donne, quindi al di là che tu dica e femministi, però sono pochi. E di solito, mi viene da dire, sono persone che sono un po' soggiogate da questa mentalità potente che a livello sociale ti indottrina appunto sul fatto che ci sia bisogno di tutto questo peso sulle tematiche femminili a discapito di quelle maschili, che poi è sempre lì il punto. Perché se noi avessimo infinite possibilità di divulgazione, allora non ci sarebbe nessun problema, basterebbe dare lo stesso peso a quelle maschili. Ma siccome sappiamo che i media e la nostra attenzione non è eterna, quindi non possiamo dare, non abbiamo risorse infinite, bisogna cercare di riequilibrare un po' la potenza di alcune tematiche. E oggi quelle femminili vincono 10 a 1 su quelle maschili, mi sembra abbastanza evidente. Poi, ripeto, sono anche mie percezioni personali che possono cambiare anche secondo del contesto. Io dal mio osservatorio, da quello che posso vedere io, la questione femminile sembra essere dal dibattito pubblico l'unica questione che è degna di nota dal punto di vista delle disfunzioni legate al ruolo di genere, chiamiamo così. Nessuno qui avrà bisogno della lezioncina, ma il femminismo è semplicemente il movimento che si batte per l'equiparazione integrale dei sessi. E io sto dicendo che adesso non si batte più per quello. Parliamo semplicemente di femmina uguale maschio e di maschio uguale femmina. Niente di più, niente di meno. Eh, mi spiace, ma non è più così. Se tu vuoi vedere tantissime pagine che si definiscono femministe, tantissime persone che si definiscono femministe, non puntano a livello retorico a maschio uguale femmina. Perché se fosse davvero così, non avrebbero bisogno di creare una mito, una narrativa sul ruolo di femminine che lo vorrebbe migliore dell'uomo. Perché se si puntasse veramente alla parità, tutte le retoriche dovrebbero dire la donna e l'uomo hanno le stesse capacità, la stessa valenza sociale e devono essere giudicati in quanto esseri umani e non in quanto femmine o maschi. Questo è il superamento del sessismo. Tutto ciò, tutto il resto, che punta esclusivamente sulla tutela di uno dei due sessi, a discapito dell'altra o contro l'altra o vittimizzando l'altra, questo, secondo me, non è egalitarismo. Non può essere. Perché vuol dire che ci sono problemi di serie A, problemi di serie B, ma soprattutto vuol dire che ci sono colpevoli e vittime. Questo è un po' il pericolo del femminismo moderno. Non so quanti anni hai, 29. Da quello che vedo nei video, azzardo un 26-27, no, peccato me ne date sempre meno, vedo anche che sei un ragazzo o uomo, non so come preferisci, occidentale, bianco istruito. Vedo il divano su cui siedi, la libreria alle tue spalle, entra e vedo forse lo schermo di un televisore. Immagino che anche tu, come me, faccia parte della piccola media borghesia, sì. Io allora ti chiedo, assodata la libertà di espressione di ognuno, pensi che sia giusto che un tipo come te, o una come me, bianca occidentale, eccetera, definisca i termini e le condizioni dei movimenti per la liberazione e l'empowerment dei neri che abitano i suborghi afro in Alabama? No, non l'ho capito questo. Io immagino che, spero che la risposta sia ovviamente no. Il punto è che i movimenti di autodeterminazione, ad esempio movimenti LGBT, movimenti femministi, eccetera, dovrebbero essere liberi di definire scopi e i modi di agire. Eh, ma questo vuol dire questo, Magherita, che cavolo significa? Io comunque sono danneggiato dalle autodeterminazioni degli altri, se queste non puntano appunto a creare dei diritti che siano esclusivamente vantaggiosi per loro e invece in questo caso, secondo me, rischiano davvero di minare la mia libertà, i miei diritti. Ma poi, ripeto, non è una battaglia perché sono uomo. Questa cosa mi dà molto fastidio. Io faccio battaglio, onestamente, nei miei video e porto avanti tematiche che non mi riguardano poi nemmeno strettamente nella mia singola persona. Ho fatto un video su body shaming relativo all'altezza quando sono un ragazzo alto. Ho parlato spesso di Kikomori quando non sono un Kikomori. Ho parlato di Insel perché non sono un Insel. Cioè, cosa vuol dire che... Perché questa logica che ognuno deve portare avanti solo le sue battaglie? Ma che vuol dire? Perché questa è la logica per cui poi vincono solo le maggioranze. Perché poi vengono portate avanti solo le battaglie delle maggioranze e allora vincono sempre loro. Anzi, le minoranze, se c'è qualcuno che capisce il loro problema, le loro difficoltà è giusto che vengano supportate. Stessa cosa se io noto che una maggioranza perché io questa la definisco oggi una maggioranza cioè i movimenti femministi rischiano di ledere la mia libertà il mio pensiero la mia libertà di pensiero perché io oggi non posso più dire quello che voglio senza essere attaccato senza essere screditato senza essere additato come maschilista. Se questo clima a me non piace scusa ma io provo a dire la mia. Sarò sincero secondo me è quello che tanti e tra questi tu fanno nei riguardi dei movimenti neo-femministi è molto pericoloso. Non siamo ancora arrivati a quella condizione di paradisiaca uguaglianza uomo-donna e non ci arriveremo ancora per un bel po' mi sa. E lo so ma non siamo arrivati ma sai una cosa non siamo arrivati anche a causa dei movimenti femministi ma soprattutto non siamo arrivati perché questa parità tra uomo e donna non deve essere perseguita e spinta solo lato donne ma deve essere spinta anche lato uomini nel senso che ci sono alcune aree sociali tra parentesi quella sul sesso la sessualità le relazioni dove le donne sono dal punto di vista sociale avvantaggiate rispetto agli uomini non a caso infatti che gli chikomori sono soprattutto uomini non a caso che gli inser sono praticamente esclusivamente uomini e che tante sofferenze riguardano gli uomini quindi questa questa paradisiaca uguaglianza che tu vuoi raggiungere deve essere fatta cercando di portare avanti entrambe le cause invece oggi l'unica voce che riesce a emergere dal dibattito pubblico perché fa parte del senso comune e i media cavalcano il senso comune perché gli portano attenzione clic voti figurati se un media molto potente con il corriere della sera ha la capacità e il coraggio di rischiare di ledere il proprio brand e quindi magari non farsi più comprare non farsi più leggere andando contro una battaglia che oggi è mainstream e che quindi fa parte del senso comune non lo farebbe nessuno perché lì ci sono interessi economici dietro quindi il soldo in questo caso determina anche le idee le ideologie io che sono una persona libera che non mi interessa in questo momento guadagnare da youtube non mi interessa è vero mi porta a seguito nel senso che ci sono persone che mi seguono ma in realtà avrei potuto benissimo star bene zitto parlare di Chico Mori tema che mette d'accordo tutti e andare avanti per la mia strada però siccome è una cosa che mi dà fastidio e che in qualche modo mi infastidisce anche a livello di ipocrisia che io vedo su questi temi lo sto cercando di trattare poi io sono piccolo mi seguono veramente in pochi quindi non muoverò nulla e in gran parte penso che sia una battaglia persa perché poi quando parli di queste cose a livello soprattutto social la maggior parte della gente non fa altro che o consolidare le proprie idee o polarizzarle in senso opposto quindi chi non è d'accordo con me otterrà questo tipo di disaccordo cioè userà questo tipo di disaccordo per crearsi delle giustificazioni ancora più forti ancora più come dire contrarie chi magari era già un po' in linea con me si in qualche modo polarizzerà anche in questo senso quindi è un po' pericoloso parlare di questi temi però qualcosa dobbiamo provare a fare perché sennò rischio davvero che il senso comune diventi così predominante così socialmente e acriticamente accettato che un giorno dire qualcosa contro questo senso comune risulterà talmente folle che nessuno più ti considererà e siccome credo che siamo ancora in un punto in cui si può dire qualcosa nonostante siamo molto avanzati come processo di indottrinamento dal punto di vista delle tematiche femministe nella nostra società io credo che sia questo l'ultimo tentativo di creare dei baluardi contro un pensiero che ripeto è talmente mainstream da essere totalmente giudicato in modo acritico non voglio fare scattare il tuo campanello di allarme io non credo che tu sia sessista ma non credo neanche che mettere le mani avanti sia un male anzi vedere gente per bene istruita ed educata potrebbe spingere tanti altri uomini in questo senso a rivedere le proprie posizioni uomini in questo senso è sbarrato non so perché ma io metto le mani avanti non perché mi sento in colpa perché ripeto se non metto le mani avanti la mia retorica anche alle mie orecchie mi sembra qualcosa di forzato perché appunto se vai contro quello che è il pensiero mainstream cioè quello più radicato nelle persone sembra che tu stia dicendo qualcosa di sbagliato quindi voglio sempre precisare che il fatto che io dica che il femminismo è male o il fatto che io dica che l'uomo è discriminato non significa che io ce l'abbia con le donne non significa che io non ritenga che le donne abbiano dei problemi in questa società non significa che io sia contro le donne ma questo questo le persone di buon senso lo capiscono le mie mani avanti sono per chi non riesce a capire queste cose e quindi sente una persona che parla male del femminismo e subito oh mio dio maschilista che vuole uccidere le donne questo purtroppo non è così scontato come pensate non sono i movimenti neofeministi a creare quel clima mediatico e sociale di cui ti lamenti che clima credi che ci fosse quando le suffragette chiedevano a gran voce il diritto di voto e che dire di Lina Merlin e le sue leggi allora io su questo sono d'accordo nel senso che ci sono tante persone anche che guardano i miei video che ritengono che il femminismo non abbia mai avuto senso cioè si è sempre stato qualcosa di profondamente negativo e falso io non ci credo perché finché non ci sono delle leggi fisiche cioè leggi scritte di uguaglianza tra due sessi per cui non c'è una discriminazione per cui tutti i due sessi hanno gli stessi diritti secondo me il movimento femminista è assolutamente sensato chiamatelo in un altro modo magari perché appunto la parola si è trasfigurata ma in paesi come l'Arabia Saudita dove le donne sono costrette a andare in giro col velo o sono indottrinate a tal punto che non lo possono nemmeno pensare di non fare lì secondo me ha senso quando il movimento femminista diventa invece la percezione delle donne che il loro ruolo di genere le in qualche modo penalizza non a livello legale ma a livello sociale lì diventa un altro discorso perché allora dovremmo andare a vedere anche quando il ruolo di genere maschile penalizza l'uomo perché se no diventa solo un ah io sono donna io mi sento penalizzata in determinate circostanze mi sento molestata mi sento svilita mi sento denigrata quindi le donne sono inferiori agli uomini e no perché allora dobbiamo andare a vedere gli uomini in quali ambienti i contesti si sentono denigrati svalutati sfottuti in quali e allora dobbiamo prendere anche quegli aspetti e cercare di portarli avanti come battaglia il problema qual è? è che un po' la ritorica femminista è andando anche per inerzia rispetto al tempo passato è diventata talmente dominante da essere appunto totalmente centrale nel dibattito pubblico è entrata nel senso comune le donne non sono una minoranza quindi riescono a portare questa cosa con grande infosi dall'altra parte l'uomo è un po' colpevolizzato un po' si sente in colpa appunto per tutto il tema del patriarcato perché riconosce comunque che ci sono tante cose in cui le donne sono state svalutate e sono ancora oggi in parte svalutate quindi un po' si sente in colpa un po' per il suo ruolo di genere non è portato a esprimere le proprie sofferenze non ne percepisce neanche a volte perché guardate che non è che tutti gli uomini sono in grado di fare una valutazione così chiara su loro stessi di dire io ho queste sofferenze legate al mio ruolo di genere maschile molti non sono nemmeno consapevoli che esista un ruolo di genere maschile pensano che l'uomo è così punto e che l'educazione non c'entri niente che la società non c'entri niente pensano che l'uomo è fatto così quindi tutti i problemi di virilità di dover essere all'altezza delle aspettative delle donne di relegare il corteggiamento alla sessualità sono problemi che dipendono dal livello biologico no non è così come per la donna ci sono difficoltà legate al fatto di essere donna in questa società ci sono anche per gli uomini quindi io ritengo che appunto il femminismo avesse senso nel momento in cui a livello legale non ci fossero ci fossero anche minime differenze oggi se io vado a vedere a livello legale mi vengono più in mente leggi e forse sbaglio io ma mi vengono in mente più leggi che tutelano le donne rispetto agli uomini penso per esempio alle leggi sul divorzio dove alla fine una donna ha sempre comunque la possibilità di mantenere i figli ha sempre quasi sempre la possibilità di conseguenza di mantenere la casa ha sempre la possibilità o quasi sempre di avere un assegno di mantenimento e ci sono tantissimi uomini divorziati che finiscono davvero in rovina questo mi sembra un aspetto legale imparziale nel senso che comunque favorisce le donne stessa cosa per esempio la maternità ci sono paesi come quelli scandinavi che hanno messo una parità reale di permesso di maternità anche per il padre cioè uomini e donne hanno la stessa possibilità di stare a casa dopo la nascita di un figlio su questo si può discutere sul fatto che ovviamente la donna fa uno sforzo fisico superiore ecco quindi dicessi di maggior tempo questo è una questione secondo me ovviamente sensata ma secondo me sono altresì convinto che per raggiungere la parità dobbiamo fare queste cose dobbiamo dire uomini e donne sono uguali poi ci sono delle aspetti biologici che possono giustificare alcune piccole differenze per esempio appunto l'uomo può decidere di concedere parte della sua paternità alla donna e appunto dargli la possibilità di stare più a casa al lavoro questo ci può stare perché magari l'uomo si riprende prima dalle fatiche del parto che sono meno fisico ovviamente però ragazzi se lo fanno anche i paesi nord ci vuol dire che non è una stronzata in Italia io credo che prima che si arrivi a fare una roba del genere ne deve passare di tempo visto che appunto al massimo io sento parlare del fatto che le donne dovrebbero stare a casa più tempo cioè magari un anno e passa però sugli uomini sulla paternità io sento veramente poche proposte di allungamento quindi vedete sono altri elementi di disparità comunque che vengono creati deresponsabilizzazione delle donne partiamo dai dati di fatto lo ammetterò non abbiamo molti dati di fatto un dato su cui credo che saremo d'accordo è che questo sin dai tempi immemori il mondo è stato retto da uomini non sono bravo con i numeri ma zarderei una percentuale minima del 90% ma allora sicuramente a livello legale le donne sono sempre state svantaggiate questo però non toglie appunto che dobbiamo valutare i tempi moderni non dobbiamo fare delle battaglie oggi ripeto sulla colpevolizzazione degli uomini perché se no è come dire che io ce li ho ce l'ho con gli americani che ne so io giapponese nascoggi e ce l'ho morte con gli americani perché hanno sganciato la bomba su Fukushima e Nagasaki cioè non ha senso oppure io ce l'ho io ho persona di colore ce l'ho con gli americani o con gli inglesi perché ai tempi delle colonie mi hanno schiavizzato non ha senso questo tipo di bisogna lottare per le tematiche attuali poi la storia è stata profondamente iniqua con le popolazioni detto che comunque non è che gli uomini se la spassassero quando le donne avevano difficoltà per esempio legali detto che io sono per la parità però alcuni fanno notare che appunto quando le donne avevano pochi diritti gli uomini non è che si godessero la vita quindi non è proprio come dire l'uomo ha sempre vissuto la bella vita e la donna ha sempre sofferto le atrocie del mondo non è così detto che io sono per la parità quindi se qualcuno mi mette delle leggi dispari cioè che non sono in qualche modo paritarie io voglio che le leggi siano paritarie sempre e comunque per tutti poi discutiamo invece su un altro piano ci spostiamo sulle disuguaglianze relative al ruolo di genere ma quello è un altro piano quello non è più il piano legale quello non è più le donne se vengono uccise dagli uomini che hanno tradito allora l'uomo ha uno sconto di pena quello è assurdo ed è stato superato per fortuna ci mancherebbe altro ma adesso siamo più su un piano del tipo io sono donna mi sento discriminata e quindi ti riporto sul fatto che io mi sento discriminata e io ti dico attenzione perché l'uomo lo riporta meno ma ci sono tante cose relative al ruolo di genere maschile che portano un grandissimo peso anche sociale in questo periodo storico se il potere è stato allineato per così tanto tempo dalle donne alienato scusami non sarà certo giusto imputare a loro la responsabilità della maggior parte delle dinamiche sessiste che si sono venute a sedimentare e che permangono tuttora nelle nostre società allora questo è un tema secondo me uno dei più sottili cioè il tema del ti chi è la colpa del fatto che oggi permanga il patriarcato le donne sostengono che è colpa degli uomini perché il patriarcato è qualcosa che favoriva gli uomini e quindi automaticamente è stato voluto dagli uomini secondo me la questione non è così semplice questa è una grande banalizzazione perché ripeto c'è sempre comunque una corresponsabilità nelle dinamiche sociali non c'è mai una come dire responsabilità unica di un gruppo relativo all'altro e soprattutto non c'è sono mai solo dei pro e dei contro relativi a una situazione quindi tu dici la responsabilità dovrebbe essere soprattutto degli uomini ammesso che sia così partiamo dal presupposto che sia così gli uomini hanno creato un un clima patriarcale di cui le donne sono state vittime e di cui ancora oggi in gran parte non riescono a come dire gestire le conseguenze bene però bisogna dire altre cose che molte donne abbiamo l'evidenza dei fatti approfittano di questo retaggio patriarcale per fare successo lo vediamo è evidente molte donne sfruttano il loro ruolo di genere femminile per avere successo per arricchirsi penso per esempio alle influencer su instagram che riescono a ottenere una fama una ricchezza spropositata rispetto ai corrispettivi maschili quindi se un influencer maschile mette il suo corpo su instagram siccome il corpo dell'uomo viene meno sessualizzato questo lo porterà ad avere un minor successo dall'altro lato appunto la donna riesce a ottenere maggiore successo quindi anche in questo caso la domanda è ma quindi la donna è vittima del sistema patriarcale anche quella donna lì è vittima di quel sistema quindi torniamo alla responsabilizzazione delle donne cioè anche la donna che ne beneficia delle dinamiche è comunque sempre scusata perché sta beneficiando di una dinamica positiva però che in qualche modo è creata dagli uomini a me viene in mente per esempio ho fatto un post sulla sezione community di Kikomori Italia relativa a una pornostare italiana molto famosa che è diventata molto famosa ultimamente che è Danika Mori che nessuno sapeva fosse italiana in realtà è siciliana e ultimamente sta venendo intervistata da tante testate lei dice una cosa come tutte le pornostare come tante pornostare dicono che vorrebbero per esempio che non ci fosse più il tabù sessuale sulla donna cioè vogliono dire io voglio avere la possibilità di fare il porno senza che nessuno mi discrimini senza che nessuno mi in qualche modo veda come donna che fa atti sessuali quindi mi dia della prostituta della donna facile così come lo fanno le mie controparti maschili le mie controparti maschili hanno di solito molto più apprezzamento nel loro lavoro della pornostare quindi perché c'è questo tabù per cui c'è questo diciamo disparità di trattamento dal punto di vista sociale a parte che è vero però è anche vero che non è che le pornostare maschili siano sempre comunque facilitati in ogni ambito perché poi in alcuni ambiti fare la pornostare maschile non è per niente ben visto quindi anche loro anche sul maschio che esibisce la propria sessualità è forte lo stigma sicuramente è più forte sulla donna il mio ragionamento qual è però qual è stato ma se tu tu sei diventata famosa e hai un seguito pazzesco che ti ha portato ad avere premi riconoscimenti apprezzamenti fama soldi perché esistono quei tabù perché se non esistessero quei tabù a livello sessuale non ci sarebbero un sacco di uomini milioni di uomini frustrati che non riescono a fare sesso che vedono nella donna che fa sesso in pubblico qualcosa di assurdo qualcosa di speciale per cui molto attrattivo se non ci fossero quei tabù quel successo non sarebbe arrivato a quel livello non è un caso infatti che le pornostare femminili hanno tanto più stigma tanta più difficoltà nel far passare anche a livello sociale il proprio lavoro ma a livello di successo di guadagni di carriera hanno molto più degli uomini hanno ovviamente le pornostare sui porno sono le stare sono quelle che vengono poi ricercate che fanno vendere i video è ovvio che quel tabù in senso negativo che tu critichi e che giustamente tu critichi perché ti dà fastidio perché dal tuo punto di vista è brutto che tu debba essere criticata ma se non ci fosse quel tipo di tabù il tuo successo sarebbe inevitabilmente minore molto minore mi viene da dire parallelamente a quanto più quel tabù sparisce quindi il discorso mio è che è un po' più sottile però e che bisogna fare uno sforzo un po' più razionale per comprenderlo è quando una donna o un uomo si lamentano soprattutto le donne ma anche gli uomini si lamentano del proprio ruolo di genere dovrebbero cercare di sforzarsi di identificare anche gli aspetti positivi di quel ruolo di genere non solo i contro io temo che oggi la donna faccia soprattutto oggi appunto da quando si è raggiunta la parità legale faccia molto questo lavoro del io percepisco su di me delle sofferenze e quindi mi percepisco inferiore all'uomo ma non è così ripeto non è semplicemente così questo è un vedere solo il proprio mulino solo l'acqua del proprio mulino vedere solo quello che ti danneggia poi magari non vedi tutti i pro perché non te ne rendi conto perché quando abbiamo qualcosa non ce ne rendiamo conto e solo quando lo perdiamo ce ne rendiamo conto ma siccome non lo perdiamo perché è insito nel nostro ruolo di genere abbiamo un sacco di pro di cui non ci rendiamo conto e che diamo per scontati ma che in realtà l'altro sesso non ha per esempio il vantaggio sessuale che le donne hanno oggi nella poter gestire molto con più meno ansia il sesso avere molta meno come dire sofferenza nel selezionare i partner non avere tutta questa angoscia di dover avere partner perché sennò si è valutato male a livello sociale sei uno sfigato e sei poco virile sei poco uomo tutte queste cose le donne non se ne riconoscono non riescono a dire io ho questo vantaggio in quanto donna vedono solo gli svantaggi però questo è un modo di vedere la questione molto miope storicamente fino a un certo momento le donne non possono essere ritenute responsabili delle dinamiche sessiste alla stregua degli uomini perché proprio degli essi uomini degli sessi uomini sono stati costrati in uno stato di minorità fisica e giuridica che rendeva totalmente impotenti di fronte agli abusi della controparte maschile non lo so secondo me queste cose continuano a essere semplicistiche non voglio andare troppo nello specifico ma è troppo facile così dire le donne sono sempre state vittime degli uomini perché comunque il sessismo è qualcosa che è sempre stato portato avanti da entrambe le categorie perché se no vuol dire che a un certo punto storico gli uomini si sono messi a tavolino hanno detto d'ora in poi discriminiamo le donne e quindi le ghettizziamo le governiamo ma non è stato così il sessismo è stato una diciamo una parte culturale dell'uomo che in passato ha determinato diverse dinamiche pro e contro per entrambi i sessi che hanno appunto determinato diverse regolazioni sociali pensiamo per esempio al fatto che gli uomini muoiono prima delle donne ma non c'è una motivazione biologica perché l'uomo muoia prima della donna anzi dal punto di vista biologico dovrebbe morire prima la donna perché la donna diventa infertile prima dell'uomo l'uomo può essere fertile fino a un'età avanzata anche più avanzata di quella della donna e si sa che il corpo e questo è provato a livello scientifico tutela l'essere umano soprattutto nella sua fase di procreazione quindi quando la donna va in menopausa e quando l'uomo non è più fertile il corpo incomincia a abbassare le proprie difese perché potremmo dire che la sua funzione è di fatto finita allora perché gli uomini muoiono prima delle donne in media questo va ritrovato anche per esempio nell'usura che l'uomo ha sempre ricevuto dall'attività lavorativa noi abbiamo sempre detto lato femminile che le donne non sono state mai in grado di poter lavorare non sono mai state in grado di poter fare un percorso lavorativo economico di indipendenza è vero questo è il contro della propria condizione il contro invece della condizione maschile che poteva lavorare poteva fare il suo percorso è che si distruggeva di lavoro quindi diciamo che il suo tasso di sofferenze di malattia di stress era mediamente molto più alto di quello delle donne e questo è testimoniato anche dal fatto appunto che gli uomini hanno tutto un tasso di mortalità in tante parti del mondo molto più alto per esempio penso alle morti per super lavoro in Giappone sono tutti uomini le morti per super lavoro in Giappone quindi questo cosa succede nella ritoria femminista questo cosa diventa è grazie l'hai voluto tu uomo che muori per super lavoro questo tipo di destino quindi zitto e muori perché non puoi lamentarti ho capito ma ragazzi ma così è troppo facile perché anche quando l'uomo subisce il patriarcato cioè questa condizione per cui l'uomo ha diciamo un maggiore potere a livello familiare eccetera ma anche quando ne subisce gli aspetti negativi automaticamente viene denigrate colpevolizzate quindi praticamente lui non può dire nulla cioè l'uomo in questa società deve stare zitto subire le accuse subire gli insulti e dire sì io sono stato favorito fino adesso io sono stato sono un vantaggiato sono una persona che vive questa società e ne ottiene solo i benefici scusate donne adesso farò di tutto il mio possibile per potervi favorire questa non può essere una visione onesta della società l'uomo ripeto soffre moltissimo il suo ruolo di genere e se non ne parliamo mai vi assicuro che nei prossimi anni questa cosa esploderà ancora di più e ci sarà tanta tanta frustrazione tanto sessismo perché stiamo creando una battaglia tra voi e le donne ed è la strada sbagliata dobbiamo andare tutte e due al di là di quello che è stato in passato di quelle che sono state le disparità poi al netto di questo io è ovvio che sono per la parità legale perché poi tutti i pro e i contro uno potrebbe dire ok ma tu lasciami decidere se io voglio lavorare o stare a casa con i figli tu lasciami decidere se io voglio fare una cosa piuttosto che l'altra ed è vero ma anche l'uomo secondo me deve avere questa possibilità anche l'uomo secondo me deve dire tu donna lasciami decidere se io voglio lavorare oppure tenere cura io dei bambini che abbiamo fatto insieme che non hai fatto tu che abbiamo fatto insieme perché poi a volte l'uomo si pensa che sia un accessorio nella procreazione però in realtà è fondamentale poi è vero che non ha tutta la fase di gestazione di gravidanza però non è che senza l'uomo i bambini crescono così quindi la mancanza di diritti era da entrambe le parti poi dal punto di vista legale ovviamente le donne non erano tutelate quindi questo è stata una battaglia giustissima perché adesso abbiamo la parità legale e quindi adesso dobbiamo capire come cercare di superare la classificazione sessuale di uomini e donne evitare che il sesso non solo porti degli squilibri legali che sono assurdi ma che non porti nemmeno a squilibri sociali ma ripeto da entrambi i lati l'obiezione potrebbe essere un tempo le donne erano assoggettate agli uomini ma adesso non lo sono più quindi adesso condividono le stesse responsabilità degli uomini no questo non è vero la risposta in questo caso sarebbe ni la vita delle persone scorre su piani diversi ed il tempo giuridico non è il tempo dell'istituzione della mentalità puoi cambiare una legge in un giorno ma potresti metterci anni o addirittura secoli a smantellare le sovrastrutture teoriche di una società questo è vero infatti non si è messo due giorni per raggiungere la parità legale quindi io credo che ancora in questo momento storico non si farebbe un computo giusto se si volesse imputare il 50% di responsabilità alle donne ma questa è la mia personalissima opinione che do a te sulla quale mi riservo di riflettere anche in futuro mi piace questa apertura perché anche io stiamo cercando di riflettere insieme da un punto di vista come dire superficiale è ovvio che le donne sono le vittime e gli uomini sono stati i carnefici della storia ma da un punto di vista sociale non funziona così cioè tu non puoi dire le donne hanno il 50% della colpa gli uomini il 50% gli uomini l'80% cioè non è proprio così semplice non è proprio una questione lineare bisogna capire chi ha portato avanti queste dinamiche sessiste e in che ambiti favorivano l'una parte e in che ambiti favorivano l'altra ripeto entrambi i sessi tendono ovviamente a vedere solo gli aspetti positivi anzi solo gli aspetti negativi della propria parte e quindi a livello sociale si crea una sorta di come dire miopia o potremmo chiamarla attenzione selettiva per cui vediamo solo le cose che ci favoriscono che ci sfavoriscono e questo secondo me è al netto delle differenze legali perché poi una differenza legale non significa che a livello anche come dire globale la salute la qualità della vita e la soddisfazione era così sproporzionata cioè non abbiamo studi chiari sul fatto che le donne vivessero peggio degli uomini perché ripeto non ci sono dati certi su questo aspetto quindi siccome io penso sia un qualcosa molto difficile da capire a livello razionale perché appunto si tende a vedere solo quello che è palese quello che risalta agli occhi bisogna anche fare un discorso onesto e dire che non possiamo concludere con certezza che nonostante la disparità legale in passato gli uomini vivessero meglio delle donne da un punto di vista di soddisfazione psicologica di benessere psicologico possiamo affermare che gli uomini erano più ricchi sì possiamo affermare che gli uomini avevano più diritti sì possiamo affermare che gli uomini erano più potenti e politicamente influenti sì possiamo affermare che gli uomini vivevano meglio e che avevano un benessere psicologico mediamente superiore a quello della donna secondo me no ma questo ripeto è il punto chiave su cui forse non siamo ancora pronti socialmente ad accettarlo perché siamo troppo troppo indottrinati nella visione molto più materialistica che poter fare una indagine invece sul benessere psicologico che poi alla fine è l'unica cosa che conta perché alla fine a me è uomo di avere il potere di lavorare di avere un sacco di soldi di avere tutto quello che vuoi ma se poi io sto male sto di merda e mi voglio uccidere oppure vivo la mia vita in modo pessimistico ma a me cosa me ne frega di tutti quei diritti che ho in più voglio dire ma cosa me ne importa tanto alla fine quello che conta è cercare di stare meglio quello che conta è cercare di vivere una vita positiva poi che la faccio con 60 miliardi in banca o la faccio con un euro in banca se uno con un euro in banca vive una vita migliore di quello con 60 ma io tutta la vita sto con un euro per me per come la vedo io perché tanto alla fine tutto si concretizza in come io sto quindi la questione secondo me è un po' complessa da questo punto di vista la risposta che darei in un contesto più generale e cioè qui in this very moment è che molti uomini e donne sono così immersi in queste dinamiche sessiste da non riconoscerle più nemmeno fuori né dentro di sé e questo è vero siamo talmente immersi che non è facile capirle serve uno sforzo extra razionale per riuscire a identificare sia i pro e i contro nella nostra condizione ed è per questo che il 99% delle persone identifica solo ed esclusivamente i contro e non riesce a identificare il pro perché il pro passa inosservato li assolverei tutti quanti dalle loro responsabilità e penserei piuttosto a quelle cose più utili come per esempio rieducarli al vivere civile valorizzare dei contenuti viralizzazione dei contenuti scusate devo dire che questo punto mi ha stupita partirei con delle osservazioni su delle cose che hai detto per poi dirti che cosa ne penso il femminicidio non è un problema il problema è il profondo inveterato sessismo che permea la nostra società i femminicidi sono solo la punta di quella terribile piramide di violenza e sopraffazione che rimane nascosta dietro il manto delle tradizioni delle istituzioni dell'educazione il problema che potrebbe e dovrebbe riguardarci e in quanto il sessismo sia diffuso nella nostra società non di quanti femminicidi occorrono e questo è vero io sono convinto che dobbiamo cercare di superare questo tipo di violenza che gli uomini hanno nei confronti delle donne non so perché ogni volta che parlo di femminicidio sembra che io voglio svalutare il femminicidio ma io voglio cercare di ridurre la violenza la violenza che c'è sia da parte degli uomini nei confronti delle donne sia da parte delle donne nei confronti degli uomini è ovvio che poi ripeto la violenza degli uomini è più problematica perché c'è un aspetto di differenza di forza fisica e quindi poi alla fine la violenza che viene operata dagli uomini sulle donne finisce a volte con un omicidio e in quella delle donne molto raramente però c'è tutto un sistema io l'ho detto che la violenza psicologica non può essere sottovalutata perché quando io ho chiesto nei miei vari sondaggi ma voi temete più la violenza psicologica o quella fisica tutti mi hanno detto psicologico la maggior parte mi ha detto psicologica non tutti ma perché poi alla fine a livello mediatico fa solo impressione quella fisica te lo dico io perché perché è più chiare più lineare donna morta uomo cattivo semplice messaggio super comprensibile articolo fatto bam viralizzazione e non c'è nessun tipo di pensiero diciamo analitico non c'è nessun tipo di studio uomo colpevole donna vittima cosa succede a livello mediatico si costruisce la visione dell'uomo colpevole quindi uomo che non è in grado di controllarsi possessivo eccetera che non è rappresentativo di tutti gli uomini assolutamente ma passa quel messaggio a livello mediatico quindi poi la costruzione che si fanno le persone dell'immaginario maschile è di quell'uomo lì quindi l'uomo viene rappresentato a livello mediatico dall'uomo violento dall'uomo possessivo ma ripeto poi non fa invece molto più scalpore la violenza psicologica operata dalla donna nei confronti di un uomo che magari alla fine si suicida qual è la differenza un uomo magari soffrendo una grande profonda violenza psicologica della donna finisce per porre fine alla sua esistenza e quello non è un omicidio alla fine dal punto di vista morale non lo sarà dal punto di vista giuridico e non avrà una viralizzazione chiara perché ovviamente io uomo uccido donna connessione causa-effetto chiara limpida io ho ucciso donna donna che fa magari violenza psicologica sull'uomo e l'uomo si uccide è buono lo so chissà se aveva ragione l'uno chissà se aveva ragione l'altro chissà se è molto più difficile da provare ma io sono sicuro che accade comunque la violenza viene fatta dagli uomini verso gli uomini nel senso dall'essere umano verso l'essere umano perché l'essere umano è uno stronzo l'essere umano è un egoista l'essere umano è un violento l'essere umano è un irrazionale non l'uomo è un violento irrazionale egoista l'uomo e la donna sono due persone due esseri umani che sono violenti egoiste perché se no qua ritorniamo alla mitizzazione della donna quindi donna superiore all'uomo meno violenta più educata più emotiva più in grado di controllarsi uomo più stronzo più volgare più diretto ma non è così questi sono i ruoli al massimo dell'educazione e se l'uomo è così è anche parte di un'educazione femminile perché io ho ricevuto un'educazione anche dalle donne anche da una madre che aveva un indottrinamento anche dal punto di vista patriarcale molto forte quindi qual è la colpa mia in quanto maschio che ho ricevuto un'educazione patriarcale anche da una donna le femministe cosa direbbero sì perché la donna che aveva educato in modo patriarcale è vittima di un sistema patriarcale precedente quindi vedete il peccato originale dell'uomo l'uomo ha il peccato originale di aver creato il sistema patriarcale e quindi tutte le responsabilità vertono sull'uomo ma così è troppo semplicistico perché non può funzionare così un sistema sociale i sistemi sociali non sono così analitici i sistemi sociali sono formati da tante dinamiche che poi vanno a alimentare una o l'altra credenza vanno a rafforzarsi che in alcuni ambiti riescono a favorire un ruolo di genere in altri altri ruoli di genere ma che non significa che siccome a livello mediatico ne emerge solo uno dei due vuol dire che esiste solo quello noi facciamo sempre questo errore che pensiamo che quello che emerge a livello mediatico rappresenta la realtà ma non è vero i media estrapolano un pezzo della realtà è quello che è più adatto alla viralizzazione soprattutto in un periodo come questo estrapolano quel pezzetto non estrapolano tutta la realtà quindi noi non dobbiamo pensare che quello che vediamo sui media ed è impossibile da fare per quello che dico che è una battaglia persa perché le mie parole verranno comprese da poche persone ma non perché siano geniali ma semplicemente perché serve uno sforzo un andare a fondo della tematica molto molto importante e che quindi non tutti possono fare ma questo non lo riuscivo a fare neanche io quando magari all'inizio approcciavo la tematica in forma molto superficiale io fino all'anno molti fa mi definivo femminista perché dicevo cavoli le donne hanno tutti questi squilibri bisogna aiutarle però poi col tempo ho capito che c'era tanta ipocrisia tanta retorica tanta finto anche processo di perseguimento dell'uguaglianza quindi poi nel tempo io sono andato a scavare e ho capito che c'è un mondo dietro che non avevo colto e che mi sta sempre più stupendo e preoccupando quindi quello che dico è non è facile che questo tema emerga perché la maggior parte delle persone non ha tempo voglia e strumenti culturali per riuscire a scavare così tanto in una tematica e rimane solo sulla superficie quindi quello che emerge in superficie è solo quello che veicola neminidia quindi il titolone l'immagine del femminicidio la donna sporca di sangue la donna con l'uomo nero e con l'occhio nero e quindi questo è quello che passa uomo cattivo donna vittima ma è molto più complesso di così non possiamo anche a livello retorico scusa a livello argomentativo fermarci liberi perché sennò davvero abbiamo l'idea di un mondo che funziona come quello della playmobil cioè tutto in scatolato tutto chiaro tutto già preciso ma non è così il mondo è molto complesso i femminicidi non sono tematiche tantomeno tematiche femministe i femminicidi sono di fatto cronaca nera e dovrebbero essere trattati con il dovuto rispetto ed esclusivamente dagli addetti lavori nessuno si sognerebbe mai di dire che i fatti di cronaca nera normali sparatori disastri naturali incidenti stradali eccetera si ottraggono spazio ad altre notizie perché dovremmo farlo con i femminicidi ti rispondo perché il femminicidio è l'unico strumento di cronaca nera l'unica notizia di cronaca nera che è centrato sul ruolo di genere cioè che vede un uomo nei confronti di una donna le sparatorie vengono perpetrate soprattutto da uomini ma possono essere perpetrate anche da donne i disastri naturali possono coinvolgere uomini e donne gli incidenti stradali possono coinvolgere uomini e donne i femminicidi sono l'atto negativo di un uomo che non viene identificato come un essere umano ma viene identificato come un maschio nei confronti di un altro essere umano che però non viene identificato come un essere umano ma viene identificato in questa società classista come una femmina e quindi è l'atto di forza di un maschio contro una femmina e quindi si crea questa disparità di genere dal punto di vista informativo questa retorica è sessista per cui l'uomo è stronzo e la donna è buona che poi nella realtà quotidiana non è così perché poi lo vediamo nella realtà quotidiana nella vita di tutti i giorni non c'è l'uomo che uccide la donna nella vita di tutti i giorni ci sono coppie fatte di uomini e donne che a volte è l'uomo più stronzo e egoista a volte la donna più stronza e egoista a volte l'uomo fa più pressione psicologica e ferisce la donna dal punto di vista psicologico a volte è la donna che ferisce l'uomo dal punto di vista psicologico quindi non c'è questa linearità di violenza da parte di un genere sull'altro non è così così lineare qualsiasi notizia può essere strumentalizzata utilizzata per distogliere l'attenzione in questi giorni stiamo assistendo al bombardamento mediatico del coronavirus qualche settimana fa si spaventava sulla terza guerra mondiale ancora prima non si parlava che dell'impeachment di Trump non è prerogativo delle neofeministe o dei neofeministi è o presunt con l'asterisco tali strumentalizzare le notizie no ma non sto dicendo che sempre le femministe strumentalizzano sto dicendo che essendo quelle notizie che riguardano appunto il ruolo di genere femminile svilito o in qualche modo minacciato violentemente da quello maschile essendo molto più accessibili e facili da comprendere immediati che non hanno bisogno di particolare approfondimento sui social che quindi vede un articolo uomo uccide donna bam lo condivido perché non si può andare avanti così è impossibile che cavolo la società non può fare questo tipo di questioni e capisci che poi alla fine quello che emerge è solo quello ma non sto dicendo che quel post quella notizia la scrive un femminista o una femminista sto dicendo che lo scrive un giornale che ha un solo interesse quello di fare più clicchi possibili quello di far sì che il suo post venga viralizzato più possibile e quindi tra la notizia di una donna che dopo a parte che è impossibile anche da stabilire quindi è molto più complesso andrebbe fatta un'inchiesta molto in profondità ma che ne so tra una notizia di un uomo che si impicca e boh chissà perché si è impiccato non si sa e poi magari si scopre che dietro c'erano degli abusi psicologici da parte della donna che egli sottrava i figli sottraeva i figli che lo aveva lasciato magari in disgrazia eccetera ma quella notizia è più complessa che chiede un livello di approfondimento articolato devi andare a capire poi ci sono degli sviluppi no cioè se tu è uomo che uccide donna è uomo che uccide donna articolo fatto finito viralità garantita e basta poi tutto il resto avviene di conseguenza quindi poi Obama dice che le donne dovrebbero governare il mondo la presidente della camera del senato la Casellati dice che le donne sono migliori delle uomini perché non so se avete visto un video che gira a Casellati che dice un'istituzione la quarta carica dello stato dice le donne sono più preparate degli uomini punto senza nessun dato questo non è mai stato posto a critica questo non è mai stato posto a critica perché è la conseguenza di un senso comune plasmato da una viralità di alcuni temi che premiano ovviamente i temi che riguardano la violenza perché la violenza fisica fa molto più scalpore molto più immediata molto più anche viralizzabile della violenza psicologica ma ma non è vero che è l'unica violenza che avviene nell'essere umano anzi siamo andando in una società dove la violenza fisica è sempre 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 lo dicono i dati anche sui micro crimini in fase calante e invece aumenta enormemente la sofferenza psicologica ritornando al punto 2 cioè al mio stupore iniziale è curioso che un youtuber che fa podcast su Spotify si faccia remore nei riguardi dei meccanismi di disfusione virale è un commento che mi aspetterai di trovare scritto in un mezzo di comunicazione più limitato come un libro o una rivista specialistica onestamente detto così sono un po' ipocrita ma cosa vuol dire nel senso io non sto dicendo che i meccanismi virali siano sempre comunque negativi ci sono meccanismi virali che possono essere positivi sto dicendo che i temi che riguardano il sesso femminile sono strumentalizzati anche per la virialità e quindi creano un immaginario che appunto forvia quella che è la percezione di una persona poi non sto dicendo che io non cavalco non cerco di cavalcare dei meccanismi di virialità anche se in realtà dai miei video non è che puoi dire io sono proprio quello che si mette a fare le reaction del collegio o che ne so qualunque argomento esca io lo cavalco subito anche perché parlo di derealizzazione parlo di temi che voglio dire non esistono neanche negli strumenti di ricerca che cavolo scrive derealizzazione nella barra di ricerca di youtube voglio dire dai non diciamo stupidate io sono penso uno dei youtuber tra l'altro corroborato dai fatti nel senso che sono sfigato perché mi seguono in pochissimi che non cerca di cavalcare enormemente le tematiche di tipo virale poi ogni tanto magari lo faccio però se non lo faccio è perché continuo a essere assolutamente non valorizzato dagli algoritmi perché poi ho tutti i video demonetizzati quindi automaticamente un video che io faccio e che è demonetizzato non solo non mi porta soldi e quello è secondario ma in più youtube non ha l'interesse a mostrarlo ad altre persone perché youtube mostra ovviamente i video che gli fanno fare soldi perché quando un youtuber guadagna guadagna anche molto di più youtube quindi i miei video oltre ad essere demonetizzati non sono nemmeno valorizzati dall'algoritmo in quanto demonetizzati e quindi cioè venire a dire a me che sono ipocrita perché faccio video su youtube quando critico meccanismi di viralità che hanno milioni e milioni di condivisioni mi sembra un po' ridicolo le donne le donne non sono una minoranza beh no diciamo circa la metà della popolazione mondiale ed esattamente non capisco come questo possa essere un problema le donne sono circa la metà del mondo e si a volte alcune di loro parlano e condividono sui social contenuti da loro reputati rilevanti so che sembra incredibile ma è davvero così personalmente io mi auguro che ognuno si senta sempre più libero basta questo asterisco però che senso ha di condividere ciò che vuole ma non possiamo distruggere la lingua italiana perché vogliamo fare delle battaglie di genere voglio dire ma perché mettere l'asterisco non capisco se scrivi con l'asterisco minoranza è una parola che usata così trae in inganno si può essere in tanti tanti ed essere una minoranza a causa della mancanza di strumenti necessari a far sentire la propria voce è vero sono d'accordo infatti io non ho usato solamente l'aspetto numerico per dire che le donne non sono una minoranza l'ho usato anche dal punto di vista legale le donne hanno gli strumenti per far sentire la loro voce hanno tutti gli strumenti che vogliono hanno tutti il diritto di voto quindi possono votare benissimo le donne in Parlamento possono votare la loro rappresentanza se la vogliono femminile se pensano che le donne portino avanti i temi femminili cosa stupida secondo me perché un uomo può portare benissimo avanti i temi femminili o quelli maschili in base alla sua sensibilità non perché è uomo o donna però le donne hanno tutti il diritto di voto hanno tutti la possibilità di accedere all'internet hanno tutti la possibilità di lavorare ovviamente hanno uno svantaggio nel mondo del lavoro e nel mondo politico che deriva da un retaggio ovviamente che si portano dietro e che questo va sicuramente allineato e su questo sicuramente c'è una battaglia da fare per cercare di far sì che le donne non vengano più svalutate in alcuni ambiti sociali e lavorativi su questo molti mi criticano perché poi qualunque cosa dici su questo tema c'è sempre dei nemici molti dicono che non è vero che le donne sono svantaggiate che le donne hanno tutti comunque le stesse possibilità degli uomini anzi di più io non sono d'accordo io mantengo la mia idea penso che le donne in molti ambiti siano svantaggiate dal loro ruolo di genere soprattutto nell'ambito lavorativo lo ripeto una donna sessualizzata e la donna viene sessualizzata molto di più dell'uomo è percepita come minormente competente quindi vuol dire che se una donna è bella viene percepita come meno competente perché appunto viene sessualizzata però in altri ambiti questa iper sessualizzazione della donna ripeto in altri ambiti lavorativi può essere incredibilmente premiata pensiamo per esempio agli ambiti di spettacolo agli ambiti social andiamo tra l'altro verso una una società dove l'apparenza conta tantissimo quindi se la donna riesce a sfruttare bene la sua apparenza otterrà sicuramente più vantaggi che degli uomini viceversa si può far parte di una minoranza numerica e al contempo detenere la maggior parte delle prerogative sociali sì e questo sono d'accordo minimizza cosa le problematiche maschili il ruolo di genere maschile impone dei parametri riduttivi è bello che tanti uomini adesso se ne stiano accorgendo è l'ottimo per avere indietro ciò che è stato loro portato via molto tempo fa ah quindi vuol dire che c'è stato portato via qualcosa ma come è fatto come è possibile che qualcuno ci ha portato via qualcosa se noi dominavamo la società e decidavamo tutto aspettate che bevo un attimo scusate podcast molto lungo ma penso di di poter dire qualcosa in più rispetto a quanto detto nel video in un podcast così lungo poi se qualcuno non ha voglia si ascolta il video ciao tuttavia non è che delle femministe né tantomeno dei neo femministe la colpa di questo io non so leggere tuttavia non è che non è né delle femministe né tantomeno delle neo femministe la colpa di questo e no ma infatti le donne non hanno mai colpa è quello il problema le donne non hanno mai colpa le donne hanno subito e subiranno sempre e comunque perché anche quando le donne avranno più potere degli uomini sarà comunque colpa degli uomini ah te lo sei meritato che meno potere perché l'hai avuto fino all'altro ieri quindi zitto e lavora uomo questo diventerà perché questo vuole il neo femminismo non vuole la parità vuole la vendetta vuole la vendetta vuole 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 prendersi con gli uomini di oggi per quello che hanno fatto gli uomini del passato che è una cosa ridicola perché ripeto ma se il mondo funzionasse così oggi il Giappone e gli Stati Uniti sarebbero ancora in guerra perché il Giappone dice cavoli mi hai ucciso un miliardo di persone quante persone sono morte nella bomba nucleare non so tantissime Stati Uniti schifosi adesso vi distruggiamo e in alcuni c'è ancora questo risentimento ma ha senso secondo voi cioè avere risentimento verso una categoria un popolo una nazione un'etnia per quello che è stato fatto a quell'etnia nel passato non per quello che viene fatto oggi per me non ha senso però se vogliamo vivere di vendetta viviamo di vendetta poi vediamo cosa che quali aspetti positivi raccogliamo entrambi i sessi non so se il genere maschile è il più pesante da sopportare dal punto di vista sociale non sono mai stata maschio ma immagino che neanche tu sia mai stata femmina no ma infatti ci sono degli studi statistici che aiutano da questo punto di vista a capire perché appunto non possiamo scambiarci e quindi abbiamo degli studi e ti li ho citati tra l'altro sono studi che sono stati condotti da persone che sono assolutamente non non sospettabili nel senso che sono persone che per esempio hanno studiato a livello universitario la dinamica del maschilismo quindi c'è un libro che si chiama Psicologia del maschilismo che se tu lo leggi è assolutamente un libro contro gli uomini da un punto di vista dell'apparenza ma in realtà secondo me al di là di alcune cose su cui non sono d'accordo è abbastanza chiaro sul fatto che l'uomo è maschilista ma che il proprio quello di genere è molto più pesante e cita diversi studi se vuoi vai a vederli li ho citati anche sul mio blog dove si dimostra come il ruolo di genere maschile è più pesante quindi poi io posso argomentartelo quanto vuoi però se non ci credi non ci puoi credere quindi è anche poco sensato che io mi ripeta mi chiedo se abbia senso gareggiare e chi stia messo peggio io da donna avrei dispiacere sia di vincere sia di perdere questo gioco questa è una cosa interessante infatti a volte quello che percepisco è che il femminista la femminista vuole gareggiare chi sia peggio cioè la femminista conclude senza nessun tipo di contro argomentazione perché è così ma perché è così perché fa parte del senso comune e quindi se una cosa fa parte del senso comune è così perché lo sanno tutti che il senso comune è risaputo che il senso comune pericolosissimo ecco la femminista la neo femminista almeno dice ma le donne sono svantaggiate stanno peggio degli uomini punto cioè non è che c'è una discussione è così perché è legato al senso comune io non sono d'accordo io guardo secondo me è 50-50 io non riesco nemmeno se io non ho prove non riesco a ottenere prove sul fatto che stanno peggio le donne o peggio gli uomini che sia che ne so un 55% che ripeto queste percentuali hanno poco senso a livello sociale perché poi sono sempre speculazioni ma ammettiamo che ci sia una percentuale di sofferenza maggiore delle donne in questa società ma come faccio a dimostrarlo se non sulla base della mia esperienza personale come faccio è difficile bisogna prendere troppe variabili dobbiamo cercare di farlo a livello di ragionamento il problema è che non è facile ragionare a fondo su questi temi anche il genere femminile deve essere costantemente riaffermato in modi più o meno dolorosi e tutti generalmente collegati a funzionalità riproduttiva e piacevolezza dell'aspetto sì ma no perché è diverso il ruolo femminile è molto dato più dalla biologia che dalla dall'apparenza nel senso che tu puoi non essere una donna femminile e questo ti viene fatto pesare a livello sociale ok quindi tu sei una donna poco femminile che si trucca poco che si veste un po' da maschiaccio e questo viene un po' discriminata sia dagli uomini che ti vedranno come meno attraente sia dalle donne che ti vedranno come fuori luogo fuori moda fuori tutto ma tu vieni comunque percepita come una donna e non ti attiri la rabbia la rabbia anche violenta nei tuoi confronti l'uomo invece è effemminato l'uomo che si veste tendenzialmente più da donna e si veste si comporta un po' più da donna parla da donna lì attira la violenza e anche lo schifo da parte di entrambi i sessi soprattutto degli uomini che vedono nella loro femminilità e nel loro essere uomo ma femminili una minaccia rispetto al proprio ruolo di genere l'uomo è virile e l'uomo deve sempre dimostrare di essere virile perché questo lo determina in quanto biologicamente uomo anche questo non è facile da spiegare ma secondo me per chi ha fatto la transizione tra donna e uomo o uomo e donna queste cose le ha apprese molto più chiaramente perché poi sono tutte cose legate al ruolo di genere e infatti io nella mia intervista a Eloisa che ho lasciato sul mio canale ricco moritalia cioè una ragazza transgender mi ha dato tanti spunti per capire anche come cambia il ruolo di genere e come cambiano le pressioni legate al ruolo di genere a seconda che tu sia uomo o donna se la percentuale di uomini che commettono femminicidi fosse maggioritaria il nostro indice di natalità attualmente sarebbe di molto sotto lo zero non tutti gli uomini uccidono necessariamente le donne alcuni stuprano altri picchiano altri minacciano altri insultano e la miseria no vabbè ma qua c'è una visione dell'uomo veramente terribile quindi praticamente l'uomo o uccide o stupra o picchia o minaccia o insulta cioè non esiste un uomo che non fa queste cose altri ancora non fanno niente di tutto ciò ah no ok scusami magari ci stanno pure male ma stanno zitti di fronte a questo e quindi sono complici di questo sistema no no su questo proprio non sono d'accordo cioè qua ripeto è una colpevolizzazione di una categoria sulla base della responsabilità personale di alcuni io non mi sento responsabile per uno che uccide una donna cioè voglio dire perché dovrei essere responsabile c'è un sistema che ripeto porta l'uomo a volte a essere possessivo essere violento ma come questo tipo di violenza io sono convinto che ci sono tante violenze perpetrate dalle donne sugli uomini che non riescono ad essere in qualche modo certificate e documentate nello stesso modo semplicemente perché molto più sfumate ma non per questo non esistono quindi questa cosa io non l'accetto io non accetto la superiorità della donna nei confronti dell'uomo cioè l'uomo stronzo donna vittima questa retorica sociale è pericolosa ma soprattutto anche le donne si convincono di questa cosa quindi cioè anche gli uomini si convincono quindi l'uomo si convince di essere inferiore e la donna di essere superiore e questo avrà un impatto enorme sulle future generazioni e le donne dovrebbero preoccuparsi perché poi quando hanno un figlio kikomori capiscono cosa significa per un uomo vivere in questa società e capiscono che hanno fatto le battaglie per loro per la donna ma poi questo quando hanno un figlio quindi un maschio a cui loro tengono a volte più che se stesse capiscono quanto è brutto avere un uomo e le sofferenze che ha quell'uomo quindi attenzione a non volere la parità perché un domani la donna femminista potrebbe avere un figlio maschio e questo figlio maschio stare malissimo e di conseguenza stare malissimo anche lei perché la parità sì che la non parità danneggia tutti sì però questa è una frase uno slogan femminista ma a volte appunto sempre non cogliendo fino in fondo cosa significa parità secondo me il senso di colpa che scaturisce dall'esposizione o dal contatto anche solo visivo con questa realtà potrebbe essere veramente la chiave per un'autocoscienza maschile e non solo ovviamente e per un gigantesco sommovimento no finché si parla di autocoscienza maschile io non sono d'accordo si deve parlare di autocoscienza umana sono d'accordo dobbiamo scrollarci di dosso ogni pregiudizio legato al nostro sesso il femminismo alimenta sessismo questo punto mi fa ridere non posso farci niente l'ultimo punto è talmente basato sul nulla che non si può non essere d'accordo ma nemmeno esserlo che sia basato sul nulla lo dici tu onestamente però vabbè accetto la critica secondo mi sono perso niente non riesco più a recuperare questo commento perché hai scritto una marea di commenti su commenti che ti sei autocommentata poi quindi non riesco più a seguire quello che avevi da dire ritornando al punto 2 no l'ho già letto il neofeminismo non alimenta sessismo perché il femminismo si basa su un solo semplicissimo assunto ovvero maschio uguale femmina ma non è vero ma questo magari lo hanno alcune femministe ma sono una minoranza la stragrande maggioranza non riesce a essere talmente lucida talmente razionale da voler veramente la parità per questo io dico che non ha senso usare la parola femminista perché se ci fosse anche una e sono sicuro che ci sono una 100-200 femministe che hanno veramente a cuore la parità e che hanno veramente un legame col femminismo in quanto strumento di eguaglianza ma se la stragrande maggioranza delle persone non ha più questo utilizzo di quella parola mi spiace ma quella parola ha cambiato significato perché il significato di una parola non lo diamo né io né te il significato di una parola è la co-costruzione di milioni di discussioni milioni di narrazioni milioni di scambi quella parola a livello sociale oggi significa un'altra cosa mi spiace qualcuno ne dovrà prendere atto prima o poi ma oggi il termine femminismo non viene più usato in funzione della parità su questo io lo vedo tutti i giorni sono abbastanza convinto tutti quelli che parlano anche in nome del femminismo e non lo fanno seguendo questo semplice assunto non possono essere reputati femministi eh ma vedi questo non ha senso qua diventa una classificazione di chi può usare il termine femminista e chi no quindi diventa praticamente un sottogruppo speciale da parte di chi cioè deciso da parte di chi chi dà la spiglia del femminista il femminista vero tu essere femminista vero tu portatore di ideali giusti tu essere femminista allora questo non è più un movimento popolare è un partito cioè è un partito con delle idee chiare che venga fatto un decalogo con delle regole che venga fatto un non lo so un manifesto qualsiasi cosa e va bene se una persona non si identifica esattamente in quelle regole non è femminista ma poi se una persona sui social sul suo profilo Instagram nelle stories nelle milioni di micro conversazioni quotidiane si definisce femminista e veicola un pensiero completamente diverso da quello che è come dire portato davanti da questo movimento che tu definisci essere purista dal punto di vista degli ideali a me non me ne frega niente perché a livello sociale quello che fa questo movimento è che non si caga a nessuno non so cosa faccia quindi io guardo quello che succede a livello sociale io studio le dinamiche sociali quindi io ti dico che oggi chi si definisce femminista si definisce femminista pur non perseguendo la parità quindi per me questo neofeminismo è esplicitamente questo una persona che si definisce femminista ma in realtà sta cercando semplicemente di dire guardate che io in quanto donna soffro alcune cose in questa società e va bene l'uomo non lo dice però e quindi o lo dice e viene tacciato di maschilista o lo dice ma è talmente poco mainstream e talmente poco legato al senso comune che viene automaticamente affossato e quindi la sua come dire parola la sua voce non emerge minimamente questa è una minoranza quindi da questo punto di vista l'uomo dal punto di vista del dibattito femminista del dibattito sulla discriminazione di genere è una minoranza perché la sua voce non riesce a emergere in quanto l'altra quindi se devo identificare una minoranza la identifico nel sesso maschile parlare di neo-femminismo senza dare una chiara definizione o portare avanti come unico esempio Frida con il suo giornalismo da quattro soldi è come andare a Bergamo e dire che la pizza fa schifo non è come quella di Napoli questa è una stranzata scusate ma ogni volta che qualcuno mi attacca su Frida dicendo no Frida non è femminista bla 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 oh ma Frida ha un milione quanti milioni di follower ha Frida ma stiamo scherzando ma quindi io chi dovrei dare peso dovrei dare peso a una pagina che praticamente è il mainstream femminista cioè il pensiero come dire comune della maggior parte delle persone che si definiscono femministe o dovrei andare a prendere la paginetta il gruppetto dove si fa una piccola divulgazione su quello che loro ritengono femminismo ma ragazzi io prendo Frida perché Frida è l'emblema della strumentalizzazione politica ed economica perché ricordiamo dietro Frida c'è la famiglia Berlusconi quindi ci sono i soldi di Berlusconi la persona che più di tutte ha distrutto l'immagine femminile nella nostra società negli ultimi anni ha denigrato la donna oggi quei soldi vengono strumentalizzati ai fini di marketing per far cosa per dividere a livello sessuale quindi incensare la donna demonizzare l'uomo che se mi dica non mi dite che Frida parla di uguaglianza perché veramente qua impazzisco perché non c'è mezzo uomo su quella pagina non si vede manco l'uomo ogni tanto oppure è tipo un pupazzetto che la donna in qualche modo oh che bello l'uomo che mi segue e fa tutto quello che dico io bene bene così no assolutamente quello è l'esempio del femminismo che io critico Frida è l'emblema del femminismo che io critico poi Frida non è l'unica pagina ce ne sono altre ovviamente non è rappresentativo di tutti coloro che si definiscono femministi ma è rappresentativo del pensiero comune di quello che oggi nel senso comune è chiamato femminismo quindi Frida è l'emblema è l'emblema di questo movimento che io definisco neofemminismo quindi se tu non sei d'accordo però anche in questo punto di vista io non penso di ritrattare Obama non è un teorico né un esponente del femminismo né del neofemminismo è solo stato presidente degli Stati Uniti beh cavoli è un'influenza particolare Obama sul mondo è stato un presidente iconico e continua ad avere un'influenza che vogliamo dire che un mio video non vale un battito di ciglia di Obama per quanto riguarda l'influenza pubblica cioè non so se mi spiego che un mio video vale in confronto a mezza parola detta d'Omama zero quindi per favore non diciamo cose che sono vicine all'assurdo la frase che ha detto fa sorridere è un po' infelice e non la condivido è un po' infelice attenzione è un po' infelice cioè dire che gli uomini dovrebbero governare il mondo è una frase un po' infelice tanto un po' infelice come dire che gli uomini dovrebbero governare il mondo basta un po' infelice ah non una cosa folle no un po' infelice però guarda caso gli uomini dovrebbero governare il mondo sarebbe stata giudicata una frase potenzialmente da pena di morte mi verrebbe da dire ma andiamo avanti e non la condivido ma non è così priva di basi come potrebbe sembrare d'altronde anche Marx prevedeva un periodo di dittatura del proletariato prima della definitiva ascesa del comunismo no? ah beh quindi ditelo chiaramente che volete che le donne prendano il potere per poi fare un compenso diciamo una compensazione storica per cui l'uomo ha avuto più potere politico sociale fino a questo momento la donna lo avrà per i prossimi x anni beh allora diciamolo se questo è l'obiettivo del neofeminismo che venga detto chiaramente così almeno non ci prendiamo in giro perché per me la cosa più fastidiosa non è tanto l'idea stupida ma per me la cosa più fastidiosa è l'ipocrisia cioè io non sopporto l'ipocrisia quando una persona dice una cosa ma in realtà è palese che non la pensi così oppure che stia strumentalizzando quella cosa dunque dunque penso di avere risposto un po' a tutte le tue provocazioni per finire vorrei chiederti in quanto tempo hai registrato questo video ma guarda io non preparo mai nulla prima non mi scrivo mai nulla io mi metto davanti alla telecamera registro quelle che sono le mie idee lo edito più o meno in mezz'oretta tagliando alcune cose che magari rallentano un po' il video mi ripeto oppure faccio delle incespicazioni dal punto di vista verbale ma sono abbastanza veloce nel creare video non mi piace scrivermi le cose mi scrivo gli articoli sul sito quello sì ovviamente è più ponderato è più come dire riflessivo peso di più le parole quindi è ovvio che nei video posso dire qualche parola su cui poi non sono magari convintissimo alcune cose magari sono più convinto altre cose magari non sono convintissimo e le modificherò in futuro infatti alcuni miei pensieri sono evoluti qualcuno l'ha notato rispetto ai miei primi video sugli incel dove comunque rimango dell'idea sugli incel per me è una cosa a parte nel senso che non sto come qualcuno sostiene diventando un incel o un red pillato cioè io il mio pensiero evolve in base alle nuove informazioni che raccolgo in base a quello che riesco ad appurare non credo di essere influenzato particolarmente da un movimento piuttosto che da un altro credo di essere tutto sommato per quanto è possibile abbastanza equilibrato nella mia idea poi ripeto non condividerete per forza il 100% di quello che dico infatti secondo me tutti i commenti che dicono sono d'accordo su tutto secondo me sono sbagliati perché non c'è mai è impossibile che ci sia sempre una concordanza su tutto cioè non c'è neanche una cosa che dice questa cosa secondo me non è proprio quello che io penso ma allo stesso modo mi fanno non mi interessano i commenti che dicono io non sono d'accordo su niente perché se tu non sei d'accordo su niente vuol dire che vuoi andare contro di proposito perché se uno esprime un parere tutto sommato diciamo nel range della ragionevolezza e tu non sei d'accordo su niente allora il tuo commento per me è pericoloso quindi non lo dico neanche perché è estremista io cerco nel mio pensiero di cercare appunto di scavare su questa tematica non fermarmi alle apparenze cercare di fare delle riflessioni e cerco ovviamente non di cambiare la società perché non sono così pazzo da pensare di poterla cambiare anche se comunque con l'ikikomori ho avuto un impatto anche minimo magari ma un impatto sociale lo sto avendo quindi i social se utilizzati in modo corretto possono avere degli impatti importanti sulla società però credo che comunque questo tema sia qualcosa di molto più radicato nel senso comune qualcosa che divide molto di più quindi io non credo di poter far cambiare idea a nessuno non credo di non ho l'ambizione di fare chissà che cosa voglio semplicemente scavare condividere con voi le mie idee la mia evoluzione di pensiero voglio semplicemente anche essere smentito in alcuni punti ecco da voi se pensate che io abbia detto delle frasi sbagliate dei ragionamenti incompleti cioè ci sta perché in realtà questo è normalissimo non mi venite a dire appunto che è tutto giusto tutto sbagliato perché sono delle semplificazioni enormi però Margherita ti ringrazio per questo tuo lungo commento che mi hai lasciato sotto il mio video siamo d'accordo su alcuni punti su altri assolutamente no però intanto abbiamo provato a fare un po' di discussione io chiudo questo podcast interminabile spero comunque che qualcuno sia riuscito a sentirlo fino in fondo e anche in questo caso vi rinnovo la mia volontà il mio desiderio di leggere i vostri pareri di leggere